Un libro, uno dei tanti che viene presentato nel corso della stagione qui al Comune di Avezzano. Siamo nella sala consigliare dove c'è appunto una cerimonia di presentazione di un nuovo lavoro, di un nuovo volume. Il titolo, Un faro nella notte, già il titolo potrebbe dire tanto. L'idea, o meglio, lo ha scritto Sabina Santilli, o meglio, Sabina Santilli lo ha dettato perché Sabina Santilli non c'è più già da qualche anno. Lo ha scritto però per lei la sorella, Leda, che è qui vicino a noi. Signora, allora parliamo di questo libro. Lei lo ha scritto, sua sorella glielo ha dettato? No, 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 no. Dopo la morte di mia sorella ho impiegato sei anni per sistemare tutti i suoi scritti. Ho trovato un ministero, 46 cartelli ho dovuto fare. Allora, tra le altre cose, ho trovato, già battuta macchina in nero, non in braille, 25 capitoli. Ed è questa qua. Io l'ho rimessa in sesto, guardato, eccetera, l'ho ricopiato pari pari e l'ho pubblicato. Di che cosa parla questo libro? Questo libro Sabina l'ha scritto perché voleva raccontare tutto ciò che aveva memorizzato quando ci vedeva. E infatti è simpatico proprio per questo perché ti riporta al 1924 dopo il terremoto, perché lei è nata il 17 e il terremoto è stato il 15. E quindi lei con le sue compagnette girava attorno al paese in mezzo alle macerie e poi nominava anche i nomi in dialetto, la stalla di Pampanit, il primo mulino ricostruito elettricamente. E ha voluto descrivere questo e c'è un frassario bello. Certo, il lessico suo, lei è autodidatta, bisogna tener conto di questo, è un autodidatta. Però c'è un frassario meraviglioso, poi sereno, sempre riferimento alla luce, alla natura, alle cose belle della campagna. Quelle che lei aveva visto però per troppo poco tempo. E sì perché all'età di sette anni con una meningite, perché lei era già dal signore super dotata, perché stava all'asilo, la maestra ha visto che sapeva tutto della prima elementare e l'ha mandata alla seconda elementare, pensi un po'. Quindi era già super dotata. E' diventata poi c'è questo tipo, questa meningite. Però, certo, la descrizione sua proprio lì per lì di come è rimasta, non l'ha scritto mai la sofferenza. Però io l'ho dedotto poi dai suoi scritti, da piccole cose, perché lei rendeva tutto ordinario per se stessa, quindi non faceva mai le lamentele, perché a me, no, no, no. Una forza interiore che l'ha portata a fare una cosa così grande per i suoi ciecosordi. Don Franco Tudini è assistente spirituale del Movimento Cristiano Lavoratori. Un volume del genere, un libro del genere, a chi può e deve essere rivolto e per che cosa, secondo lei? Credo che debba essere rivolto a tutti in quanto trattasi di una iniziativa che riguarda l'amore del prossimo, la concretizzazione dell'amore del prossimo, le opere di misericordia che non sono soltanto evangeliche, ma appartengono alla solidarietà comune di tutte le persone. Quindi interessarsi di coloro che sono portatori di qualche fragilità, di qualche handicap appartiene a tutta la società, a tutta l'umanità. Quindi la solidarietà ci rientra a pieno titolo e quindi coinvolge tutte le persone a qualsiasi ideale si ispirino o impostino la loro esistenza. Oggi purtroppo la società Don Franco non va troppo per il sottile e spesso i meno fortunati vengono abbandonati al loro destino. Bisognerebbe cambiare. Papa Francesco in questo senso sta indicando qualche strada? Beh certo, il Papa sta riorientando un po' la società verso questi valori e la sta riorientando soprattutto attraverso una testimonianza personale e ci sta dicendo a tutti che non i grandi discorsi, le grandi teorie, ma soprattutto questo coinvolgimento, questo lasciarsi andare verso le persone. Ecco, mi interessa, mi importa che una persona si trovi in una situazione di difficoltà e io devo scendere da cavallo per poter avvicinarmi a questa persona che si trova in difficoltà. Naturalmente ognuno può dare quello che sa dare, quindi non è che si pretende l'impossibile, però ognuno credo, ha detto il Papa, nessuno è tanto povero da non offrire neanche un sorriso a una persona. Quindi possiamo tutti fare qualcosa. Un altro Santilli per questa presentazione è Arnaldo Santilli, un nostro vecchio amico possiamo dirlo, che è stato anche sindaco di San Benedetto ed è consigliere del Movimento Cristiano Lavoratori. Che cosa rappresenta Arnaldo per San Benedetto Paese un libro del genere? Un libro del genere è fondamentale perché richiama alla mente e alla memoria della gente la figura di Sabina Santilli, zia Sabina. E quindi è un fatto importante per le nuove generazioni perché lei è stato un esempio per quell'opera che ha fatto che è la Lega del Filodoro e poi per l'impegno che ha messo sempre verso gli altri, quindi una disponibilità un'altruista nata, diciamo così. E poi che cosa posso aggiungere? Sabina Santilli è indimenticabile. Per chi l'ha conosciuta sa che comunque è stata una grande. Non lo dico perché sono il pronipote, ma lo dico perché lo dicono tutti. L'esempio che ha dato Sabina, secondo te oggi viene seguito dalla civiltà attuale e in che misura? Forse la civiltà attuale ha difficoltà a prendere esempio da zia Sabina, ma quello che ha fatto però è stata un'opera ingomiabile che viene riconosciuta adesso da tutti, che è la Lega del Filodoro e ha salvato e ha aiutato tante persone che stavano nelle sue condizioni. Proprio con un altruismo spietato, aperto proprio, di cuore, come era lei, una persona seria. Una occasione per gli stati membri del progetto di cui siamo capofila per raccogliere le sfide con cui siamo chiamati a confrontarci in materia di valutazione ambientale strategica in modo da rafforzare il progetto della macroregione adriatico-ionica. Lo ha detto l'assessore all'ambiente Mario Mazzocca intervenendo questa mattina all'international meeting del progetto SPIDI. Si tratta di un'iniziativa che rientra tra i progetti del programma IPADIAT che intende realizzare una piattaforma informatica condivisa per la corretta applicazione della direttiva europea sulla VAS, cioè la valutazione strategica ambientale, ma anche per individuare spunti di riflessione che potrebbero essere portati all'attenzione dell'Unione Europea. All'incontro erano presenti, oltre all'assessore Mazzocca, Giovanni Savini, direttore del Dipartimento Affari della Presidenza e i rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo, Paolo Fuzero, direttore del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi d'Annunzio Chieti Pescara e di rappresentanti degli altri partner del progetto. L'obiettivo è quello di favorire la cooperazione transnazionale tra le pubbliche amministrazioni al fine di ravvicinare le legislazioni in materia di VAS dei paesi coinvolti. Questo obiettivo si può raggiungere attraverso lo sviluppo della piattaforma informatica già realizzata dalla FIRA che permetterà la condivisione delle conoscenze e delle informazioni soprattutto attraverso i forum in essa contenuti che permetteranno a tutti i beneficiari di affrontare i dibattiti sulle varie problematiche relative alla VAS. La Regione Abruzzo è capofila ed ha un finanziamento di circa 400.000 euro. È importante notare, ha proseguito l'assessore, che nel progetto sono coinvolte le tre regioni della marca adriatica, cioè Abruzzo, Molise e Marche, e quindi potrebbe essere utilizzato anche per rafforzare l'iniziativa della macro-regione adriatico ionica. Si è trattato infatti di un incontro scientifico e di pilotaggio per definire le restanti attività e per finalizzarle proprio ad una delle principali direttive programmatiche che la Regione si è data, ossia la creazione della macro-regione, prevista la realizzazione di una piattaforma informatica in grado di coinvolgere e di condividere informazioni anche in tempo reale tra i partner coinvolti nel progetto. Ora l'intervista con l'assessore Mazzocca. Se ci puoi illustrare questa iniziativa intanto. Si parla tanto di macro-regione adriatico ionica e noi cominciamo, per quello che ci compete, a essere operative, a essere concreti. Con il progetto Spidi abbiamo intanto cercato di codificare nel dettaglio le procedure di valutazione ambientale strategica che devono essere adottate in ambito del mare adriatico. Tra te che i nostri partner, oltre alla Regione Marche e quella del Molise, ci sono anche i croati, la Serbia, l'Albania e anche la Grecia. Ovvero andare a verificare e toccare quindi con mano le varie progettazioni, i relativi impatti che possono avere sul nostro mare in maniera uniforme, univoga. Tant'è che è un modo di procedere che noi riteniamo essere pilota e vogliamo poi proporre all'intera comunità europea. Come avviene materialmente? Attraverso la piattaforma informatica che ha realizzato Fira per conto nostro nell'ambito del progetto e che domani presenteremo al convegno dell'Aquila. Come si inserisce questo nella lotta alle tripelle in Adriatico? Credo che si inserisce a pieno titolo perché con i nostri cugini di oltre Adriatico cerchiamo appunto di elaborare una strategia che sia comune, che sia condivisa soprattutto per quanto attiene qualità e quantità dell'impatto di ogni tipo di previsione progettuale di investimenti che noi diciamo che tutti quanti vogliono prevedere sul nostro mare Adriatico. Un esempio è un progetto Unipatriatico che la regione Abruzzo si è visto finanziare e sta attuando da tempo che si chiama Powered e che riguarda la praticabilità di alcune iniziative sull'eolico offshore. Quindi questo diciamo rientra in tutto questo progetto e anche può essere tra virgolette un documento da dare ogni volta che viene proposta un qualcosa contro l'ambiente? Questo è il suo po' del discorso? Beh contro l'ambiente a priori non lo possiamo dire. Sicuramente a tutela dell'ambiente perché salvaguardare gli ecosistemi, i siti di Natura 2000, le aree protette marine che esistono già in maniera diffusa sul nostro Adriatico per quanto ci riguarda un dovere. Per quanto mi riguarda anche una opportunità di incidere in maniera positiva su un modello di sviluppo sostenibile che noi intendiamo dare alla nostra regione. Oggi aggiungiamo un tassello importante per la storia della società unica dei trasporti abruzzesi. Con la firma del contratto di secondo livello, con le organizzazioni sindacali regionali, scriviamo un nuovo capitolo che conferma appieno che gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti. Innanzitutto ci premeva la salvaguardia dei livelli occupazionali per 1.600 persone e infatti nessuno rischierà il posto di lavoro. Non toccare o toccare al minimo la parte economica era il secondo obiettivo e poi l'aumento della produttività. A questo punto, da subito, saremo al lavoro per un ulteriore sviluppo del piano industriale. Lo ha detto il consigliere delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro intervenendo all'incontro presso la sede della regione Abruzzo tra Società Unica Abruzzese di Trasporto, la TUA, e le organizzazioni sindacali Filt CGL, Filt CISL, Uiltrasporti, FAS CISAL e UGL Trasporti alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione di TUA, Luciano D'Amico, e di rappresentanti delle segreterie confederali CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL. A margine dell'incontro si è proceduto alla firma del contratto. Per quanto riguarda la parte economica, aggiunto D'Alessandro, abbiamo stabilito un principio di equità. Chi percepisce di meno non dà nulla, chi guadagna di più contribuisce di più e così almeno il 50% dei lavoratori, cioè 800 su 1.600, non saranno toccati. Per gli altri si tratterà di un sacrificio ma da qualche euro fino a qualche decina di euro al mese, mentre per i redditi più alti il taglio massimo sarà di 100 euro mensili ma riguarderà solo poche unità. Un buon risultato lo ha definito il Presidente del Consiglio di Amministrazione di TUA, Luciano D'Amico, che ha consentito di omogeneizzare i trattamenti economici dei dipendenti delle tre aziende e di creare una struttura da cui ripartire per la fase di rilancio e di sviluppo. Ci sono voluti diversi mesi per arrivare a questo accordo, credo però che sia un lavoro ben ripagato con il risultato finale. Sull'accordo le dichiarazioni del Consigliere Delegato ai Trasporti, Camillo D'Alessandro. Ci sono state certe delle perplessità da parte dei cittadini e UGL che riguardavano sacrifici un po' sbilanciati, loro li vedevano dal lato del personale, poco dalla dirigenza. Come avete superato? Abbiamo fatto quello che abbiamo detto. Dal primo giorno l'obiettivo era salvaguardare i livelli occupazionali, obiettivo riuscito delle 1600 persone, nessuno rischierà e arrisca il posto di lavoro. Secondo, non toccare e toccare al minimo la parte economica, obiettivo colto con questo contratto. Terzo, aumentare la produttività, obiettivo colto con questo contratto. Oggi anche con i pensionamenti che ci saranno, questa azienda da debito, problema da libri tribunale, diventa una risorsa per la Regione del Consiglio. Abbiamo ottenuto l'accordo con i sindacati, quando dicevo che orientati alla produttività, l'accordo è stato fatto perché c'erano modelli organizzativi di lavoro diversi, oggi noi li uniformiamo, tutti lavoreranno in modo uguale, tutti lavoreranno un po' di più per l'azienda. Per quanto riguarda invece il biglietto unico regionale, anche quello mi sembra ad alcuni non proprio particolarmente. prima non c'era, adesso sta in due aree importanti, in sede di sperimentazione, nell'area metropolitana e nell'area di Lanciano. Dopodiché è un modello che noi dobbiamo estendere, si prevede anche degli investimenti perché non c'è solo la volontà. Per realizzare il biglietto unico ci vogliono gli investimenti. Noi nel piano industriale lo abbiamo previsto, crediamo che entro questa legislatura non riusciremo a garantire a tutti gli ebruzzesi il titolo unico ferrovolio. I danni della classe politica nelle strutture pubbliche. In Italia abbiamo migliaia di esempi, purtroppo. Spesso sono i politici a fare danni. Gli amministratori, i tecnici delle società pubbliche fanno i salti mortali per andare avanti, ma si trovano spesso i bastoni tra le ruote e non possono agire in maniera diversa da quello che la politica consiglia. consiglia, tra virgoletto, o meglio impone. Un esempio purtroppo lo abbiamo anche qui nella Marsica. Stiamo nella sede del CAM con l'amministratore delegato, l'ingegner Giuseppe Venturini, per parlare di tante cose. Io vorrei proprio iniziare, ingegnere, con questa mia considerazione. La politica che spesso fa danni nelle strutture pubbliche. Il CAM è una di quelle. Voi avete dei professionisti, dei manager, dei tecnici preparati, però spesso la politica vi porta fuori percorso completamente. È d'accordo su questa mia affermazione? Diciamo che ci sono stati, ci saranno casi, sicuramente dove la politica in qualche modo incide anche nella parte gestionale. Per quanto riguarda il CAM, che è una società che negli ultimi anni sta avviando un percorso di risanamento con un modello gestionale dove c'è praticamente la presenza della politica, devo dire che negli ultimi due anni c'è stata la possibilità di lavorare con serenità. Mi auguro che questo continui, che questo percorso intrapreso continui perché credo che i dirigenti, così come gli amministratori, debbano essere giudicati sui risultati e la politica debba tracciare, così come prevede la norma, l'indirizzo politico-amministrativo. Per il CAM è evidente che è una società con forti criticità che sta avviando un percorso di risanamento, un percorso duro perché bisogna recuperare una situazione debitoria rilevante e un percorso molto particolare perché tocca gli aspetti ambientali, tocca le tasche dei cittadini in quanto con le bollette e quindi con la parte relativa ai consumi dell'acqua incide notevolmente in un periodo storico dove la crisi si fa sentire per tutti. Credo quindi che un sistema dove la politica in qualche modo giudica i tecnici esclusivamente sui risultati raggiunti, dove la trasparenza, dove le modalità di realizzare alcuni obiettivi risultano evidenti ai cittadini siano la soluzione per cercare e tentare di dare al pubblico in un momento critico una soluzione per andare avanti. Quindi questo è quello che il CAM sta facendo e lo sta facendo attraverso sia l'Assemblea sia l'organismo di sorveglianza. Noi abbiamo un sistema dualistico che allo stato attuale fa lavorare i tecnici e ha ristabilito un clima di serenità e spero continui a valutare i risultati ottenuti, esclusivamente quelli. Ingegnere, negli ultimi giorni sono arrivate nelle cassette postali degli utenti, dei cittadini bollette diverse dal solito, di importi più piccoli, ma diverse dal solito. Vuole spiegarci cosa si tratta? Guardi, io mi lascio fare prima un ringraziamento Antenna 2 che mi dà questa possibilità. La ringrazio veramente di cuore perché la possibilità di informare cittadini è una cosa importante. Forse noi non ci siamo riusciti appieno, quindi questa occasione è veramente preziosa. Diciamo che abbiamo inviato fatture a tutti i nostri utenti, non per una scelta, ma perché l'autorità che ormai dal 2012 regola il servizio idrico integrato ha praticamente valutato i dati che sono stati inviati nel tempo dal gestore. Quindi questi soldi che vengono chiesti ai cittadini non sono soldi che vanno a coprire una situazione debitoria del passato, ma sono soldi che vanno a compensare la valutazione della tariffa del passato. Che significa? Significa che a livello nazionale l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico integrato ha valutato se i costi per determinati anni, in particolare per il CAM 2009, 2010 e 2011, avevano una corrispondenza con la tariffa. Su alcuni gestori le tariffe erano troppo alte e quindi ai cittadini sono state restituite delle somme. per quanto riguarda il gestore vengono richieste delle somme ai cittadini e in media su un triennio peseranno 30 euro autenti. Ci rendiamo conto che questa fatturazione rappresenta un ulteriore peso per i cittadini, ma rappresenta al tempo stesso un obbligo che è stato verificato puntualmente in maniera precisa sui dati trasmessi, che sono dati trasmessi in maniera oggettiva. Il peso è rilevante perché comunque sono 30 euro l'anno, ma noi abbiamo dato la possibilità invece di recupero in due anni, così come prevedeva la delibera dell'autorità nazionale, di restituire queste somme in tre anni. Voglio in maniera chiara dire che non sono e ripetere che non sono soldi che il CAM utilizzerà per la copertura della situazione debitoria. Sono soldi che vanno a coprire spese che non erano coperte negli anni 2009, 2010 e 2011. Tra le altre cose, l'autorità ha stabilito che il conteggio venisse fatto sui consumi del 2012. Questo significa che non è stato preso un dettaglio per singolo anno, ma si è rappresentato come valore, un valore medio. Quindi abbiamo scelto di farlo in maniera separata come fatturazione per far capire all'utente che si tratta di un unatantum sostanzialmente che quindi non rappresenta qualcosa di legato ai consumi, ma rappresenta un recupero dettato dagli anni precedenti. La possibilità di diluire nel tempo secondo noi è un aiuto che possiamo dare. Credo che queste situazioni nel futuro non potranno più verificarsi perché attraverso il passaggio della gestione del sistema tariffario con l'autorità nazionale e con l'ato che fa da organo intermediario tra autorità nazionale e gestore la velocità del flusso informativo che deve essere trasparente e anche controllato dalla Guardia di Finanza perché su alcuni recuperi tariffari nel momento in cui il gestore impone dei dati scatta anche il controllo della Guardia di Finanza. Questo credo che in qualche modo vada nella direzione della trasparenza. È evidente che Cam in questo momento deve fare di più, deve installare più misuratori, deve trovare il sommerso per ottenere una tariffa più equa. Quindi nel momento in cui il numero degli utenti dico una banalità si incrementa è evidente che la tariffa tende a scendere. Questo è un obiettivo che noi ci siamo posto nel primo semestre del 2016 avremo da installare circa 16.000 misuratori idrici. È l'obiettivo principale perché riteniamo come ovvio che un sistema che continui a prevedere una tariffa a forfè è un sistema ingiusto. Abbiamo nel passato iniziato e tentato di fare una campagna di installazione dei misuratori ma come i cittadini i nostri utenti ricorderanno non è andata a buon fine. Quindi in memori di questa esperienza provvederemo a fare una campagna di informazione a seguire puntualmente l'impresa che si è giudicata alla gara dei misuratori e cercando di cogliere obbligatoriamente l'obiettivo del primo semestre e questo già è un importante risultato senza parlare poi di un ulteriore obiettivo che riguarda sempre l'annualità 2016 che è quello dell'evidenza dei sommersi Ecco Ingegnere lei ha parlato di sommerso questo è veramente un argomento che fa discutere tantissimo perché pare che sia intorno all'8% la quantità di persone che consuma acqua non si sa in che misura consuma quest'acqua ma che è sconosciuta al campo per cui continuano a pagare quelli che hanno sempre pagato anche per quelli che sono sconosciuti a voi e tutto questo vi sembra non iniquo assurdo allucinante Lei ha pienamente ragione la ricerca del sommerso deve diventare una missione del gestore il valore percentuale dell'8% è determinato da parametri che prevedono il rapporto utenza abitanti è un valore verosimile molto verosimile e rappresenta ovviamente un'ingiustizia per tutti gli altri utenti su questo noi stiamo provvedendo entro la fine dell'anno a promuovere un nuovo regolamento utenza che sia più severo in qualche modo per chi utilizza la risorsa idrica in maniera abusiva ma è evidente che è un nostro onere andare a cercare chi la utilizza questo lo faremo insieme ai comuni che ci dovranno in qualche modo aiutare e supportare in questa attività ed è evidente che il recupero del sommerso è un grosso aiuto per quanto riguarda il sistema tariffario incrementare il numero degli utenti insieme al pagamento al consumo della risorsa idrica rappresenta un'attività di giustizia è evidente che non possiamo andare oltre il 2016 il sommerso è un argomento che CAMSPA purtroppo da diversi anni si porta dietro evidentemente non abbiamo dato la giusta importanza nel passato oggi le principali attività che il gestore della Marsica si deve porre sono installazione dei misuratori recupero del sommerso un servizio trasparente un servizio più cavillare più attento un recupero di efficienza anche da parte della nostra struttura operativa ma è evidente che un risanamento aziendale non può non passare attraverso questo argomento il sommerso rappresenta veramente una piaga perché in qualche modo falsa quella che è la distribuzione dei costi ovvero si continua a spendere una risorsa per la gestione per tutti gli utenti ma poi la pagano solo in parte è evidente quindi così come deliberato anche dall'assemblea come indirizzo che ci è stato dato dal consiglio di sorveglianza che questi due obiettivi che citavo prima rimangono prioritari una volta che avremo sistemato questi due aspetti tecnici fondamentali è evidente che la società potrà percorrere in maniera più tranquilla il futuro che arriva tenuto conto che abbiamo una convenzione che dura ancora per undici anni e che sta e sarà tra breve posta al rinnovo secondo le indicazioni dell'autorità quindi un sistema che oggi sul territorio nazionale sta cambiando da un punto di vista normativo sta cambiando da un punto di vista anche dei sistemi di informazione è evidente che la possibilità di dare all'utente tutte le informazioni anche in via telematica risulta importante e colgo l'occasione per dire che un primo passo piccolo passo con la comunicazione della lettura attraverso il telefono rappresenta per noi un passo importante perché vengono comunicati consumi reali su questo abbiamo recuperato da un punto di vista tecnologico uno spazio notevole la possibilità quindi di dare sempre un pagamento in funzione del consumo effettivo delle volte le persone o gli utenti sfugge per colpa nostra magari per una mancanza di informazione che il sistema forfait è bilanciato su 141 metri cubi anno questo sistema non può funzionare e torna utile il consumo sia alle utenze singole che sicuramente hanno un consumo più basso sia a chi consuma di più e ha una situazione sociale debole in quanto il sistema tariffario protegge questo tipo di utenti in due fasce a seconda della possibilità di reddito quindi torno a ripetere per noi dare anche un supporto tecnologico la possibilità di con intervalli regolari di comunicare il proprio stato della misura della risorsa idrica rappresenta evidentemente un modo per pagare in maniera costante quindi senza avere sorprese è evidente che la strada da percorrere per cam è lunghissima perché bisogna recuperare su tanti settori bisogna recuperare in efficienza e questo lo stiamo facendo nell'ultimo consiglio di sorveglianza abbiamo portato una delibera che individua una nuova struttura organizzativa del cam più snella nella quale sopprimiamo sostanzialmente otto distretti territoriali e li portiamo a tre questo non significa che il cam si allontana dal cittadino ma cambia la modalità di gestione operativa sul territorio in maniera da avere sempre dati sui costi di gestione puntuali e quotidiani e in maniera da avere contezza sostanzialmente della spesa della gestione questo è l'unico modo per avere poi una bolletta più chiara più semplice e forse una tariffa anche più bassa bene cari amici ascoltatori se avete qualche parente amico o conoscente che fa ancora il furbetto avvisatelo che fra poco toccherà pagare anche a lui e юсь ani as a 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 Grazie a tutti.